buongiorno da btv news oggi 12 marzo e san luigi rione e ricorre ai plant flower day un'intera giornata dedicata ai fiori alle piante che ne hanno immensa semplicità rendono migliore la nostra vita il nostro mondo i fiori non sono solo fonte di gioia e di colori unici vengono impiegati da millenni nella medicina popolare rivestono un ruolo essenziale in riti e celebrazioni e sono utili anche in cucina la giornata internazionale dedicata ai fiori alle piante un'occasione speciale per celebrare l'importanza di queste piccole grandi opere d'arte della natura le esatte origini del plant flower day non sono del tutto note ma quel che tutti sappiamo che i fiori nella loro straordinaria semplicità meritano non solo una giornata di celebrazioni ma un intero anno di festeggiamenti oggi è anche la giornata nazionale della cotoletta la milanese e la giornata internazionale delle beckett scallops corrispondono le nostre capesante grattinate trenati in questo giorno noveriamo gabriele d'annunzio 1863 beppe fiorello 1969 jack kerouac 1922 e gianni agnelli 1921 tra le scomparsi ricordiamo invece milla pizzi 2011 e terry precet 2015